Oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me! Sono le 6 di mattina e non ho idea di dove stiamo andando perché Mati mi ha svegliato tipo 10 minuti fa dicendo mi prepara due cose al volo, una valigia perché dobbiamo partire Non so dove andremo Io sì Pausa pipì Ok amore tieni gli occhi chiusi e vieni dentro, vieni in avanti Barbu vieni dentro pure tu Ok Ok vieni avanti Sorpresa! Ma che bello è qua! Andiamo facciamo un giro, facciamo un giro C'è la tupetta No aspetta chiudi gli occhi di nuovo Chiudi gli occhi No Hai esagerato Cioè qua c'è la jacuzzi Docciona E la sauna Ma stiamo scherzando? E sopra cosa c'è? Andiamo andiamo Aspetta Saliamo saliamo vediamo cosa c'è su Nooo amore Ah no amore No esagerato amore Sei pazzo Buon compleanno Buon compleanno Buon compleanno Papu hai visto la mamma? Papu hai visto la mamma? La mamma è esagerata stavolta eh? È proprio esagerato È esagerata Una matta Una pazza amore Una pazza Una pazza Una pazza in serio Una pazza di te io sono Sì Ti auguri a me allora Ti auguri amore Ti auguri amore Ti auguri amore Ma che fai? Aspetta Io la devo sposar m dieci Quanto sono fortuna Tattiıl 수 Pre Ti auguri amore Atti auguri amore Auguri amore m ooo Anni bravo Adi ancora amore Tu dovete sapere ragazzi Che questo qua è praticamente il weekend perfetto Io amo la montaggio Volevo venire a Livigno da tipo due anni Due anni E amo le case di montagna Mattia ha preso l'intero Buongiorno amici Siamo a fare colazione Vi devo far assolutamente vedere una cosa Ovviamente c'è un mega buffet Ma guardate cosa si trova nel buffet I pepi belle Amici ci sono rimasto Poi ovviamente ho preso un donut Un bombolone alla crema Non è alla crema neanche lo mangio Melone e kiwi E poi ho preso un po' di salumi E formaggi della casa Guardate che vista che c'è mentre facciamo colazione Ormai in ogni mio video Ogni colazione ha una vista incredibile Settimana scorsa a Telia Settimana Livigno E la mia faccia è sempre distrutta a colazione Una bella camminata stamattina per le strade di Livigno Guardate che si guarda Fa freddo Fa freddissimo Barbu Barbu Grazie Barbu Grazie Barbu Grazie Barbu Stamattina mi porto con me a fare un po' di shopping qua per Livigno Vediamo se troviamo qualcosina Mi dici di un bel completo da ciclista? Ma il completo da ciclista ci sta Stamattina c'è una pace incredibile A domenica c'era un casino Ragazzi non si riusciva neanche a camminare Invece oggi Anche ieri Oggi è mattedì Trovo sereno Tra l'altro è la prima volta per me a Livigno Finalmente questo sogno si è realizzato Grazie a Matti Guardate qua ci sono dei mini gattini Palli Tra l'altro non so se l'avete già visto Ma guardate qui L'unico problema è che quando chiudo il cappuccio Giustamente non ci vedo nulla Perché anche ci sono i bocchini Giusto per Hai capito ogni tanto Oh sai che io ho il cappuccio che si chiude Vento spider Basta Guardate qua ci sono tutti questi cuori per tutto il viale Sto mangiando qui un paninazzo Mamma mia adesso vi faccio vedere Guardate quanto è grande sto panino Ovviamente come in ogni video Prendete in riferimento la mia mano Guardate quanto è grande Barbu Ho già provato a rubarmelo almeno tre volte Adesso si siete perché l'aspetta vero? Lo vuole? Barbu Vuoi il panino? No la cosa divertente guarda rispetto alla mia di mano Mamma mia un braccio Insomma tanti auguri a me Shopping fatto Ora vi faccio vedere cosa ho preso Mi metto qui NBA 2025 Signori E poi un sacco di bustine Di One Piece Adesso ne apro una con voi Ne apro una con voi Vediamo se mi portate fortuna BRB01 Giapponese Vediamo se mi portate fortuna Allora subito un bel don Molto carino Wow Mamma mia quanto brilla questa Belle Belle È la novità di questa espansione OP09 Che carina questa Che belli sti disegni Wow Bellissima Bella Ace Ma ci sono tutti C'è Ace Luffy Zoro Nami Usopp Sanji E Robin E Robin Top pacchetto Ne conosco mai Top pacchetto Siamo in un negozio di vestiti E guardate La cabina per cambiarsi È super particolare Sembra una navi No Sembra una La seggiovia Ne? È la funvia Vedete che nei miei vlog vi faccio vedere Sempre un sacco da mangiare Guardate qui cosa sto per assaggiare Ho preso questo mega tagliere Ovviamente tutti i prodotti tipici Della montagna Guardate qui che vista Bellissima C'è una vista ancora più bella D'amore C'è una fame Pazzesca La bresaola qui È totalmente diversa Da quella che troviamo In giro Squisita Qui possiamo vedere Un approccio Tattico Tipico Tra cane E gattini Guardate Barbu Che fifone Che è Guardate Adesso si avvicina Un fifone Un fifone Un fifone Probabilmente vi starete chiedendo Ma perché questo video non l'ha chiamato Provo tutto quello che si può mangiare Alle vigno C'avete ragione Perché Perché Anche adesso Siamo filmati per mangiare Vi faremo vedere cosa mangeremo Vero babu Se lo indovinate nei commenti C'è un premio Una cosa che non abbiamo mai mangiato Guardate Comunque questo locale è molto particolare Amo questi posti Fatti in legno Vi vedete C'è tutto Tutto fatto in legno Molto carino Strano ma vero Non l'abbiamo ancora preso Abbiamo preso un bel tagliere Con lo scritto You're sprite You're sprite Abbiamo appena avvistato Degli alpaca Guardate Guardate Sono tantissimi Infatti li aveva già visti Quando stavamo salendo Su Alle vigno Quando torniamo giù Ci fermiamo Si No Ma domenica Mi io voglio Mi lo so Troppo Al того Vi Mi 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 Ciao